Ciao Simone, car tablet dedicato a Jeep Renegade arrivato parliamo di un Android 10, 6 giga di RAM, 128 giga di ROM, Apple CarPlay Android Auto, slot SIM, quindi avrai una doppia possibilità o andare in hotspot oppure se hai una SIM libera la inserisci e avrai sempre in linea poi avrai tre home personalizzabili, la prima l'hai appena vista, eccola qui poi potrai personalizzare e inserire questa e infine ne abbiamo un'altra disposizione che è questa qui ovviamente sono tutte cose che deciderai te adesso c'è la pellicola protettiva che poi tu una volta eseguito il lavoro la potrai togliere torniamo nell'altra home in questa home c'è anche la caratteristica che quando vai in movimento avrai la velocità e l'effetto della macchina che è in movimento gestione audio e video tramite le USB qui siamo in radio, stazioni memorizzabili, comparirà l'RDS una volta che attacchi l'antenna poi andiamo in gestione USB audio qui sta in audio potrai gestire titoli, cartelle usciamo e poi andiamo nella gestione video basta scorrere qui hai musica mi sono perso il video adesso lo troviamo eccolo qua qui siamo in video ma andiamo avanti anche qui potrai gestire le varie USB in questo caso torniamo audio edit oppure torni indietro e c'è il video campione test dopo di che via voce bluetooth streaming musicale poi andiamo su Maps qui stiamo su YouTube qui stiamo su Google potrai fare anche le ricerche vocali qui chiudiamo Viale Palmiro Togliatti 600 ecco qui addirittura possiamo usare Street View ecco qua abbiamo metà Street View e metà Maps usciamo una cosa molto importante è anche il DSP che potrai vederlo da qui infine lo split screen potrai usare due app in contemporanea chiudiamo andiamo ad aprire io metto sempre Maps e hai lo split screen io ti ringrazio come posso ti invio tracciabilità e spediamo top di gamma 6 GB di RAM ROM 128 GB Apple CarPlay Android Auto DSP e slot SIM a a a a a Grazie a tutti.